Ciao ragazzi, eccomi tornata in un nuovo video questa volta un video che non ho mai fatto diciamo una sorta di video haul delle collaborazioni non l'ho mai fatto perchè non ho mai ricevuto talmente tanta roba da dover fare un video haul questa volta mi sono arrivate tante cose tutte insieme e visto che non saprò purtroppo quando riuscirò a farvi la review di queste cose perchè ci sarà uno stop nel canale per un po' di tempo nel canale non lo so perchè sto cercando di registrare più video possibili comunque di questa cosa vi parlerò meglio adesso in un prossimo video e volevo mostrarvi queste cose che mi sono arrivate tutte fra ieri e oggi no, una è arrivata inizio settimana la prima cosa che voglio mostrarvi non è una collaborazione ma diciamo è stata una gentilezza di una ragazza davvero carinissima si chiama Sara Damonte io vi lascio tutti quanti i suoi riferimenti giù nell'info box è una ragazza che ha sia un canale youtube che è un blog che è una pagina facebook ed è bravissima perchè fa tutte quante cosine in casa e piacerebbe davvero tantissimo anche a me ma non ho proprio la pazienza per fare purtroppo queste cose e io avevo chiesto informazioni riguardo un gel contorno occhi e lei è stata così carina da inviarmene uno gratuitamente quindi io la ringrazio ancora tanto le mando un bacio e mi ha fatto davvero stra stra piacere questa cosa e mi è arrivato proprio oggi ed è questo gel non so se metto a fuoco se leggete contorno occhi e alla caffeina all'interno contiene caffeina, aloe comunque lei non ha lettera e mi ha scritto tutto quanto io adesso non vedo l'ora di provarlo vi faccio vedere anche all'interno comunque è tutto quanto naturale contiene il gel d'aloe dell'equilibrio che quindi contiene dei conservanti ed è questo qui l'odore è quello del classico gel d'aloe c'è chi piace e chi no mi sinceramente non dispiace e è stata davvero gentilissima questo contorno occhi come mi ha scritto lei serve a riattivare la microcircolazione della zona perioculare e da stasera penso lo inizierò sicuramente ad usare e appena me ne so fatta un'idea o comunque appena l'ho usato per un pochino ve ne parlerò sicuramente ma nel frattempo datemi rete e andate a controllare le cosine che fa lei perché meritano veramente detto ciò passo alle collaborazioni allora passo da inizio da quella che mi è arrivata dieci minuti fa mi ha suonato il corriere e sono rimasta no stupita di più ve lo giuro veramente intanto mi hanno contattato loro e già questa cosa mi ha fatto super super piacere sto parlando dell'azienda punti di vista ed è un'azienda che ha per lo più prodotti per capelli tinte ma anche smalti creme viso quindi ha un'ampia gamma di prodotti mi avevano chiesto se preferivo prodotti per il viso per i capelli sapete io con i capelli non mi do pace e quindi ho scelto i capelli giuro che io pensavo mi inviassero dei prodotti in diciamo mini size insomma delle taglie piccoline voi non avete idea cioè io li ringrazio veramente anche della fiducia appunto che hanno avuto e non vedo l'ora di provarli queste cose inizio dalle cose più piccoline inizio da questo qui che sono dei cristalli non ve lo avvicino perché è anche specchiato dei cristalli liquidi e semi di lino e sono 100 ml non vedo l'ora appunto di provarli hanno l'erogatore così a pompettina io poi adoro questo genere di cose sia perché i semi di lino li uso spesso per due motivi d'altro mi erano anche terminati per due motivi alleggeriscono molto i miei capelli e i miei capelli hanno un problema fondamentalmente che trattengono tanta tanta acqua e si alleggeriscono molto quando vado a mettere degli oli tipo questi e poi perché me li rendono più lisci io che faccio sempre quasi sempre più o meno la piastra quindi sono super curiosa di provarlo un'altra cosa che mi ispira tantissimo è questo qui è uno spray luminoso ultra brillante che ho letto che è districante e demoliente e va messo dopo lo shampoo a capelli bagnati prima di effettuare la piega sono curiosissima questo di provarlo sia perché districata mi serve assolutamente perché non avete idea di come sono i miei capelli subito dopo lo shampoo e poi è anche appunto lucidante che va magari per arrivare anche un po' i riflessi non mi dispiace e mi incuriosisce davvero tanto e questo sono 250 ml e ora arrivano i due pezzi forti il primo è questo shampoo da un litro cioè da un litro non finirò mai penso no non è vero perché per quanti shampoo finisco io in un mese probabilmente mi durerà tipo due mesi ed è uno shampoo all'olio di sesamo idratazione express per capelli colorati perché appunto loro mi avevano chiesto che tipo di capelli avevo ho detto che comunque ce li avevo trattati colorati e sono davvero curiosa di provarlo poi sapete che per i prodotti per i capelli cioè mi piace tanto cambiare e provare nuove cose quindi sono super contenta e poi olè anche la maschera da un litro la maschera probabilmente mi durerà una vita veramente ed è sempre all'olio di sesamo idratazione per capelli colorati sono curiosissima curiosissima sono contentissima vi giuro qui c'è il loro diciamo catalogo con tutti quanti i prodotti vi lascio il loro link giù nell'info box appena li avrò provati per un po' sicuramente ve ne parlerò perché non vedo assolutamente l'ora di provarli già dalla prossima volta che laverò i capelli sicuramente li incomincerò ad usare e poi ci tengo a dire che è un'azienda a man in italy un erborisserie online sempre mi hanno contattato si chiama Rodiola se non ricordo male vi lascio anche di questa il link giù nell'info box e mi ha fatto scegliere un prodotto fra alcuni che mi avevano proposto loro e ho scelto un balsamo sempre per restare in tema capelli ho preso questo balsamo della bioherz ho scelto questo perché mi incuriosisce tanto questa marca perché ormai sapete che non vado d'accordo con i prodotti per capelli totalmente bio ma vi dico che questo l'ho già usato per tre volte e mi sta piacendo e non poco ma ve ne parlerò meglio questo penso comunque fra non molto perché già lo utilizzerò tre volte quindi il tempo che lo finisco oppure anche se non lo finisco il tempo che me ne faccio un'idea ben precisa ve ne parlerò sicuramente ma già questo che mi sta stupendo sono 150 ml anche questo e niente ragazzi ci dobbiamo fare questo breve video per presentarvi diciamo questi prodotti fatemi sapere se avete provato qualcosina io non vedo l'ora di parlarvi e di provare più che tutto questi prodotti vi invito a guardare giù nell'info box i vari link detto questo vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao